Ha ragione il governatore della Puglia Nichi Vendola o il suo collega lombardo Roberto Formigoni? A sentire chi se ne intende e ne scrive, in Lombardia la mafia c'è e come? Non solo in Lombardia ma ovunque e difficilmente si riesce a contrastarla. Piuttosto si può imparare a conoscerla meglio, come ha cercato di fare attraverso la testimonianza di un pentito d'Indrangheta, il giornalista Claudio Antonelli di Libero insieme al collega Gianluigi Nuzzi nel libro Metastasi, sangue, soldi e politica tra nord e sud, edito da Chiarelettere. Se quella di Vendola è stata una provocazione la reazione di Formigoni è da analizzare perché una reazione così scomposta deve far riflettere. La politica lombarda, la politica del nord sta reagendo con la propria coscienza credo, perché anche se continua a negare la presenza di indrine, di locali che operano costantemente e che hanno un numero di affiliati molto elevato, secondo me sta cominciando un lento percorso di reazione. A Polignano, dove Antonelli ha presentato il suo lavoro nel corso della rassegna Il senso dei libri, c'era anche Aldo Pecora, presidente e anima di Ammazzateci Tutti, l'associazione di Giovani Calabresi nata sei anni fa in seguito all'assassinio del vicepresidente della regione Francesco Fortunio. Sulla mafia Milano, lui le idee le ha ancora più chiare. Parlando proprio di Expo, noi siamo stati tra i primi con Ammazzateci Tutti a lanciare un serio allarme riguardo la Lombardia, tant'è che il presidente Formigoni facesse un po' di mente locale, si ricorderebbe pure di aver istituito un comitato per la legalità, si chiama, comitato di garanzia all'interno della sua giunta regionale, la precedente giunta regionale, quindi mi sembra strano, insomma, è un po' paradossale che proprio oggi Formigoni si indigni con Vendola quando Vendola scopre l'acqua calda.